Che cosa vedremo all'expo? Una foresta di bambù, le dune del deserto, il granoglio nella praterina. Expo Milano 2015, la nostra esposizione universale sta per cominciare e il sogno diventa realtà. Le emozioni del padiglione zero, il cibo, i sapori, i profumi e i colori dei paesi del mondo, l'incontro dei popoli, gli ideali della società civile. Ci aspetta un'esperienza straordinaria. Fare la spesa nel supermercato del fuoco, riscoprire la biodiversità, giocare nel parco dei bambini, vivere lo spettacolo tra l'arena sull'acqua e il teatro all'aperto, camminare il domani sulla pianta di un'antica città romana e all'incrocio tra il Cardo e il Decumano scoprire quanto di meglio il nostro paese ha da offrire, Palazzo Italia. È un'occasione unica perché tutti assieme vogliamo esplorare, condividere, discutere, trovare soluzioni e crescere. Milano, primo maggio 2015, ci vediamo a Expo. Grazie a tutti.